Presidente, mi scusi, posso rubarle 5 minuti del suo prezioso tempo per farle qualche domanda? Prego, prego, non più di 5 minuti, perché come sapete il nostro impegno istituzionale corre a destra e a sinistra. Stiamo facendo già i prossimi DPCM del 25 aprile del 1 maggio. Prego. Per prima cosa mi dica, come sta andando la vendita delle mascherine? La vendita delle mascherine sta andando benissimo. Stiamo vendendo tantissime mascherine, pacchetti da 50, pacchetti da 100, quelle P2, P3, P4, abbiamo tutte le categorie. Giustamente li stiamo consumando tantissimo perché la gente la mette ovunque. In riva al mare, quando guida in macchina da soli, quando cammina da soli, in casa, nelle terrazze, nei condomini, perciò va bene che queste mascherine le mettono. Tante donne non fanno più la ceretta e i baffi, non mettono più i rossetti e gli uomini non fanno più la barba. Le usano anche quando vanno al bagno, che magari fanno cattivi odori, così fanno doppio uso. Sia per il Covid e sia per l'odore che fanno nel bagno. Perfetto. Cos'è previsto invece per il pranzo di Pasqua? Il pranzo di Pasqua è sempre una tradizione, giustamente, perché come sapete Pasqua è una tradizione, come si dice Natale con i tuoi e Pasqua anche con i tuoi. Cambieremo anche il proverbio perché, come sapete, non bisogna fare assemblamento e giustamente non si può fare più di dieci persone. Però io proporrei di farne dodici, perché come sapete anche la cena dei dodici a posto è da dodici, i servizi di casalinghi, la tovaglia quando la compri, piatti, posati, bicchieri, è tutto da dodici. Non possiamo mettere i due posti al bando. Perciò massimo dodici persone al pranzo di Pasqua. Pasquetta sempre nella tradizione, giustamente ci sarà l'uovi di Pasqua, si regalano l'uovi, si fanno le pastiere, si fanno i petrali, tutti questi dolci tipici e si mangerà tutti insieme. Giustamente anche negli uovi di Pasqua si possono solo fare dei regali alternativi. Chi mette le mascherine, chi mette un tampone, hai fidanzati e poi chi magari più mette un igienizzante oppure, come si dice, un diamante per sempre, gli farai un vaccino per sempre, un regalo, amore mio, ti amo, ecco qua gli fai le cose. Giustamente, fra fidanzati, come fanno un faglio l'uovo? Le regioni restano ancora colorate, quindi chi può entrare, chi può uscire? Le regioni sono sempre colorate, come sapete chi sono rosse, chi è arancione, chi è arancione rinforzato, c'è pure il rosso rinforzato che sta uscendo adesso. Chi può uscire? Giustamente devi dare una prova. Perché esci? Che devi andare a fare? Può uscire solamente il fidanzato, il marito, la moglie che vanno a regalare l'uovo di Pasqua al fidanzato o alla fidanzata. Perché se tu non vai, dici che vai a fare? Allora devi avere una colomba in mano o un uovo di Pasqua in mano. Perché tu immagina che non porti l'uovo di Pasqua alla fidanzata, sai che è guerra che succede. Perciò è meglio portare l'uovo di Pasqua alla fidanzata, così si può uscire alle regioni e anche le forze dell'ordine non ti dicono niente. Come sapete abbiamo 75.000 forze dell'ordine, giorni di Pasqua e di Pasquetta, che controlleranno e pattuglieranno gli androni dei condomini, le terrazze, le strade, tutto quanto. Senta, ma è vero che volete fare l'obbligo vaccinale con un passaporto, una patente? Come funziona? No, non c'è l'obbligo vaccinale perché non si può fare. Come sapete ci sono i trattati europei, c'è il trattato Viedo, c'è la Costituzione, c'è la Nuremberg, non si può fare. Si può fare però alcune categorie perché magari stanno a contatto col pubblico. Obbligo vaccinale. Che non sarebbe poi un passaporto vaccinale. Proporrei un foglio rosa, diciamo. Un foglio rosa, chi è vaccinato, va con quello che c'è il vaccino, che c'è la patente. Se tu sei vaccinato, sei prenotato, già puoi prendere la patente e il foglio rosa lo puoi strappare. E poi come sapete ci sono gli sconti. 10% a chi ha fatto la prima dose di vaccino, 30% a chi ha fatto la seconda dose di vaccino. Perciò non sarà un passaporto vaccinale ma sarà un foglio rosa e poi una patente vaccinale. Perfetto. Si dice che darete anche il reddito di cittadinanza a tutti i migranti, è vero? Ma si parlava, è stato il mio deputato che ha fatto questa proposta, ma come sapete comando io e decido io cosa devo dare e cosa non devo dare. Non sarà un reddito di cittadinanza ma sarà un reddito di immigrazione perché verrà dato a tutti i migranti e immigrati che sono immigrati e sono arrivati qua e sono grati dell'Italia. Non puoi dare un reddito di immigrazione a un immigrato che non è migrato e non è grato migrando. Perciò penso di essere stato chiaro che non daremo questo reddito di cittadinanza. Poi lo equipareremo ai stipendi italiani, non daremo un reddito di cittadinanza come è stato dato agli italiani, di 700, 600, 500 euro che non è accumulabile, ma daremo 1.300, 1.500 euro ogni immigrante che sarà grato in base ai stipendi italiani, alla media dei stipendi italiani perché come sapete non dobbiamo fare discriminazione. Deve essere dato a pari cose e poi può essere anche accumulabile, non come il reddito italiano che lo devi spendere per forza. Questo lo puoi anche accumulare o mandarlo ai parenti e ai paesi loro. Perciò tranquillamente 1.300, 1.500 al mese ogni immigrante che è immigrato e grato si può dare. Se no niente, penso di essere stato chiaro. Chiarissimo. Chiarissimo. Va bene Presidente, la ringrazio, sempre gentile. Perciò auguri di Pasqua, auguri di Pasquetta. Come sapete abbiamo 75.000 forze dell'ordine, controlleremo tutto il territorio. Barbecue e grigliate nei condomini, nei terrazzi, negli androni. Divertitevi, buone feste a tutti. Noi stiamo già in lavorazione per il DPCM del 25 aprile e del 1 maggio. Festa dei lavoratori, come sapete lavorate tanto perciò grazie a tutti e al prossimo DPCM. Grazie.